Il Palermo è la squadra più attiva sul mercato. Oggi firma sui contratti per Edoardo Pierozzi. L'ex Fiorentina arriva al Palermo dall'Alessandria in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. E' un altro colpo targato dal duo Castagnini-Zavagno. Il primo è il direttore sportivo del Palermo, l'altro il responsabile dell'Aura Scouting del City Football Group. Sono colpi definiti che si aggiungono a quelli non ancora ufficializzati di Salvatore Elia dal Benevento, Jonut Nodelcerau dal Crotone e Madl Devetak dalla Serbia. Lungo l'asse centrale il Palermo sta lavorando su una coppia di centrocampisti che possa garantire affidabilità e concretezza. Non c'è soltanto Giacomo Calò del Genoa che nell'ultima stagione ha giocato in Serie B con il Benevento, ma anche Jacopo Segre, reduce da un'ottima annata a Perugia e ora tornato al Torino. Si lavora anche per Marco Sala, terzino sinistro al Sassuolo, mentre Matteo Stoppa, centrocampista alla Sampatoria, oggi atteso in città per le visite mediche. Delignati questi acquisti si punterà a sfoltire la rosa, ma soprattutto a puntellare la squadra con quei giocatori necessari per completare l'organico da consegnare a Baldini. Sistemate difese a centrocampo, bisognerà poi acquistare quel puntello in attacco necessario per il salto di qualità. Il nome che circola da settimane è quello di Di Mariano. In realtà una trattativa sul giocatore non c'è. Probabile che le ultime mosse di mercato siano basate sulla partnership che il Palermo ha con il Manchester City. Da valutare le offerte che arriveranno negli ultimi giorni di mercato. L'obiettivo è chiaro, è quello di completare la squadra entro la prima di campionato. Poi si penserà all'acquisto di spessore, soprattutto in attacco, dove si attende un esterno che possa sostenere Brunoli. Capitolo uscite. Ceduto dall'Oio al Levellino che raggiungerà il ritiro soltanto domani, Felici tornato a Lecce e poi girato in presito e Girona al Crotone, per Michele Somma resta in piedi l'unica pista che porta al Foggia. Il giocatore è voluto fortemente dall'ex tecnico Rosa Boscaglia, ma la trattativa non si sblocca per motivi economici. Per Bro e Fella resta tutto in stand-by. Il primo è in prova con Baldini, il secondo vorrebbe restare, ma deve convincere del tutto il tecnico. Nessuna trattativa di mercato invece per Roberto Crivello, destinata a restare come alternativa sulla fascia sinistra.